Buongiorno, buongiorno. Allora, oggi io e Luigi vi parliamo di questa batteria di Litio Store che è la nuovissima batteria da 200 Ampere di Litio Store e come vedete è un bestione, è gigantesca. Allora, io vi spiegherò la parte diciamo un pochino più semplice, mentre lascio poi la parola a Luigi per la parte un pochino più tecnica e complessa. Ci proviamo. Allora, quello che io posso dirvi è che innanzitutto si presenta bellissimo. Il case è molto robusto, rigido. Ha queste maniglie, queste qua di lato, come vedete, che si possono togliere e mettere in basso come supporto per il fissaggio della batteria a terra ed è fantastica. Ha un tastino di accensione e spegnimento quindi nel momento in cui il tastino appunto è spento qui non c'è energia, non c'è corrente. Pesa circa 24 kg. È un bambino, è bella pesante, è bella robusta ed è davvero bella. Per il resto lascio la parola a Luigi che vi spiegherà tutto nel dettaglio le caratteristiche tecniche di questa batteria. Allora, ciao a tutti. La percezione che si ha davanti a questa batteria è quella di una qualità costruttiva molto elevata perché comunque si presenta molto solida. Questo è il modello, come ha detto già Elena, da 200 ampere. Questo modello lungo 46 centimetri, alto 21, profondo 22 centimetri per un peso di 23 kg. Polo positivo a destra, negativo a sinistra con perno M8 testa 13, serraggio dei perni massimo 9 newton ma io suggerisco di rimanere tra i 7 e gli 8 newton di serraggio, 11 anni di garanzia, bluetooth integrato. Fra le diverse caratteristiche, come ha già anche anticipato Elena, maniglie che possono essere rimosse e poste alla base della batteria per il fissaggio al pavimento. In più, sempre sul laterale, ci integra delle piastre che permettono il fissaggio a un'altra batteria sia nel montaggio in parallelo che nel montaggio in lunghezza, quindi una seguente l'altra. Questa batteria ha diverse caratteristiche che la distinguono un po' dalle altre batterie a ditio. Fra le caratteristiche di rilievo è da segnare la tenuta stagna del case, tant'è che si presta anche per un utilizzo nautico. Batteria tenuta stagna, bluetooth integrato quindi per l'accesso tramite l'applicazione che va scaricata da internet e permette di monitorare la batteria e quindi leggerne i dati, l'informazione che comunque l'applicazione permette. Applicazione tra l'altro di sola lettura. Fra le altre caratteristiche, ce ne sono altre due abbastanza importanti. Una è il riscaldamento interno di questa batteria, si potrebbe definire una batteria invernale. All'interno in pratica è inserita una resistenza elettrica che viene gestita in automatico dal BMS che permette alla batteria di mantenere una temperatura interna tale da poter permettere la ricarica anche quando ci troviamo in condizioni climatiche rigide, quindi temperatura al di sotto dello zero. Come sapete al di sotto dello zero le batterie litio non possono essere caricate, possono essere invece utilizzate ma al termine dell'utilizzo, quando la batteria è completamente scarica, bisogna attendere almeno una temperatura di due gradi positivi per poter iniziare la ricarica. Due gradi non dell'ambiente ma della temperatura della batteria. Questi elementi resistivi che stanno all'interno non fanno altro che mantenere la temperatura interna ma tale da poter permettere la ricarica non hanno un assorbimento importante, quindi non c'è il rischio che incida particolarmente sull'autonomia delle batterie. È gestita automaticamente dal BMS, quindi sarà lui stesso a decidere e a stabilire quando e se fare intervenire questa funzionalità molto molto comoda. Nella parte frontale abbiamo il tastino di accensione e due porte Ethernet standard RG45, anche esse coperte da un tappo a vite a tenuta stagna, anche questo. Porte Ethernet che si distinguono in quella destra per mettere in comunicazione un'altra batteria in serio e in parallelo e quindi far comunicare entrambi i BMS in modo sinergico. Porta sinistra riservata a un utilizzo service, quindi diciamo riservata soltanto alla parte di accesso del venditore o dell'azienda, insomma in caso di necessità utilizzo di tipo service, quindi non accessibile all'utente finale. BMS installato quindi sulla parte superiore, in questo rialzo ricavato dal case della batteria. BMS è molto molto completo, veramente ben fatto, io ho avuto modo di vederla, di vedere all'interno di questa batteria, vi posso garantire che la qualità costruttiva è davvero molto molto elevata. Sono batterie economiche sicuramente nel prezzo, non nella qualità della componentistica utilizzata e nel cablaggio utilizzato. Sono batterie molto valide, noi di Due Pazze in Cava non facciamo questa recensione per un interesse economico, lo facciamo a titolo di consumatori finali perché chi ha visto i nostri video dell'impianto elettrico di qualche anno fa sa che noi abbiamo acquistato, noi acquistammo delle batterie, due batterie da 100 ampere da Litio Store nel 2019 e a tutt'oggi quelle batterie sono ancora installate che funzionano perfettamente. Se dovessi definire la qualità e l'affidabilità di queste batterie sicuramente direi che sono assolutamente eccezionali e lo dico da consumatore, non da parte interessata. Noi le batterie le abbiamo pagate e comprate. Abbiamo avuto il piacere dopo cinque anni di conoscere Gabriele di persona che è una persona spettacolare, una persona per bene, una persona pulita e ci faceva piacere comunque condividere questa nostra esperienza quinquennale insomma delle due batterie che acquistammo che tra l'altro forse erano probabilmente la prima serie di batterie che vendiva. Di queste batterie che questa serie è una fegata comunque perché comunque sono veramente fatte bene. In conclusione consigliamo di comprare batterie di Litio Store? Assolutamente sì perché come ho già detto sono batterie convenienti dal lato sotto l'aspetto economico ma qualitativamente non hanno, non sono seconda a nessuno. Noi a tutt'oggi le stiamo utilizzando con estrema soddisfazione. Se dovessi consigliare delle batterie a Litio, sicuramente Litio Store è tra le prime, tra i primi consigli che darei a cuore leggero perché comunque sono estremamente affidabili. Sono batterie fatte veramente bene. Questi modelli poi ultimi che sanno che sono in vendita sono un abisso migliore rispetto a quelle che abbiamo noi quindi a maggior ragione un acquisto sicuramente da consigliare. Vi piacciono? Accattatavilla. Quindi concludendo quando questo pazzo Luigi ha deciso di cimentarsi nell'impresa titanica impossibile. Non fatelo a casa. Ecco non fatelo a casa. In questa impresa di rifare totalmente da zero il nostro impianto elettrico perché era un disastro. Io ho pensato di ricontattare Gabriele e dirgli che stavamo facendo questa cosa perché ci tengo di nuovo a sottolinearlo, l'ho già detto diverse volte, di tutti i problemi che avevamo sul nostro impianto elettrico le uniche cose che hanno sempre funzionato perfettamente sono le batterie di Litio. Nonostante tutto. Nonostante tutto. Nonostante i cavi sottodimensionati, nonostante le crimpature fatte male. Vabbè. Comunque si ha contattato Gabriele. Gabriele ha deciso di riprendersi le due batterie da 120 ampere che avevamo, che ci aveva già fornito, di cui una pagata e una regalata. Di questo siamo sincere. E ha deciso di investire di nuovo su di noi dandoci queste batterie e dicendo ragazze fate le cose fatte per bene, decido di darvi queste batterie e sono sicuro che vi troverete bene. Anche perché, lo ripetiamo, le batterie di Litio Store hanno 11 anni di garanzia. 11 anni di garanzia. Quindi qualsiasi problema, qualsiasi cosa, basta contattare Gabriele e vi metterà in contatto con il suo staff per problemi tecnici di qualsiasi tipo. Basta. Concludendo, penso che abbiamo detto tutto. Vi lascio il link di Litio Store in descrizione. Mi raccomando, andate a vederlo. Ciao! Ciao ciao!